Allora, chiaramente è una partita un po' particolare, speciale, perché insomma voi dopo la sconfitta con l'Atalanta avevi detto che avresti curato un pochettino più la fase di possesso, c'è un discorso anche legato alla reazione emotiva della squadra dopo questo capo interno e poi dall'altra parte abbiamo un Inter che in settimana invece ha subito un'ammazzata psicologica con l'eliminazione della Champions League. Come arriva la tua Udinese a questa partita e che tipo di avversario ti aspetti? Sono due domande piuttosto classiche, chiaramente, di vigilia. Ma voi avete sicuramente compreso quando vi ho informati di dove siamo partiti noi, di da che priorità siamo partiti noi e quindi siccome per dare concetti che rimangano importanti nella mente dei giocatori ci vogliono dai 20 ai 30 giorni noi siamo a fare un primo bilancio in una serie di quattro partite molto difficili e competitivi che ci vede aver dato un certo tipo di organizzazione difessiva, una cosa che riscontrebbe tranquillamente nei numeri sia per concretezza difensiva sia per occasioni concesse, non dimenticando il fatto che comunque in quelle occasioni che abbiamo creato siamo stati molto concreti, siamo tra le prime cinque squadre in questo momento con un rapporto di occasioni create e golfati. Quindi da questo punto di vista nella scorsa settimana abbiamo detto che era finito un certo tipo di lavoro e che partiva un altro principio che è quello dello sviluppo del gioco, della costruzione del gioco senza e rendendosi conto che non bisogna mai perdere di vista l'equilibrio tattico. Quindi in questa settimana come sempre abbiamo lavorato molto e abbiamo lavorato spesso e volentieri su quello che è il nostro secondo principio, quindi la possibilità di poter costruire il gioco e poter essere ancora più efficace. L'Inter mi aspetta una squadra assolutamente affamatissima perché uscire dalla Champions non piace mai a nessuno è una squadra che ha grande qualità, parliamo delle due o tre squadre più importanti del campionato italiano ma noi come sempre sapete non è che partiamo battuti, vogliamo sempre fare la nostra partita e poter creare qualsiasi problema a qualsiasi avversario Udi News Buongiorno mister, negli ultimi giorni ha avuto tante buone notizie a fronte anche di recuperi di tanti giocatori importanti che danno tante possibilità in più, soprattutto adesso che inizia un periodo con tante partite anche ravvicinate. Questo è sicuramente un elemento a suo favore, insomma è un incentivo in più perché soprattutto in attacco adesso c'è davvero tanta abbondanza, penso a Macis, Pussetto, De Paul, Lasagna fa piacere avere anche la possibilità di poter attingere a tante risorse Sicuramente sì, anche se nei recuperi diciamo che per quanto riguarda gli attaccanti erano quelli già presenti da quando siamo arrivati, ad eccezione forse di Lasagna che nelle prime due partite non era da considerare abile a ruolato a tutti gli effetti per un problema che aveva riscontrato ritornando dalla nazionale Gli altri ci sono sempre stati, ci sono sempre allenati con il gruppo e si vede, si è visto perché comunque iniziano a star bene anche dal punto di vista tattico e mentale e soprattutto fisico e quindi da questo noi continuiamo. Alcuni giocatori vengono in qualche modo convocati perché ho bisogno di farli entrare nel gruppo nel senso di percepire la partita e di mettere l'attenzione necessaria al fatto che poi dopo questa partita ne avremo tre in una settimana quindi è importante un recupero non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista dell'abitudine a stare con la squadra nei ritiri, nei lavori Nel caso di Barak che è entrato appunto ieri e oggi è chiaro che è un po' indietro rispetto agli altri ma non importa lui deve venire con noi e stare con noi A proposito della sfida con l'Inter, io così in settimana vedendo qualche allenamento ho visto che hai lavorato molto sulle ripartenze chiaramente credo che insomma ti aspetti un Inter che faccia la partita e come atteggiamento possiamo aspettarci un Udinese tra virgolette guardinga ma pronta anche a catapultarsi nella metà campo avversaria Hai un po' pensato così di ricalcare quasi, non dico la formazione ma l'atteggiamento avuto con la Roma Noi abbiamo cercato in queste tre partite di aggiungere sempre qualcosa pur, come ti ho detto prima, tenendo conto che dovevamo finire diciamo di dare un concetto di organizzazione difensiva e di compattezza e questo ci siamo riusciti, ripeto, i dati lo dimostrano ampiamente però in ogni partita abbiamo cercato di aggiungere qualcosa quindi nella partita ad esempio contro l'Atalanta la pressione ultra offensiva che non avevamo fatto nelle partite precedenti ma anche la costruzione di gioco individuali quindi la possibilità di staccarsi individualmente per iniziare a giocare dal portiere uno dei casi emblematici ad esempio è stato il gol che abbiamo fatto poi con Lasagna in tre passaggi siamo riusciti a ribaltare l'azione a mettere una palla in mezzo ed arrivare a chiudere con una velocità importante questo tipo di gioco che a me piace molto perché ti dà la possibilità di attaccare gli spazi in verticale possibilmente con palla a terra è quello che vorrei nel corso dei nostri miglioramenti ma dobbiamo renderci conto che non siamo al top per poter fare 95 minuti di queste fiammate per cui dobbiamo imparare anche a gestire la palla in maniera diversa a cambiare posizionamento in campo e a far uscire la palla dalla zona di pressione a ritardare magari il riattacco immediato anziché utilizzare solo la ripartenza in questa settimana abbiamo lavorato molto ma ripeto ci vogliono comunque dai 21 ai 30 giorni per stabilizzare un concetto e recuperi i beramiti che sono molto diretto pensi di poterlo utilizzare fin dal primo minuto e quanto ti è mancata la sua esperienza nella partita con l'Atalanta? a me mancano tutti quei giocatori che non possono essere presenti al 100% quindi non è solo stato il caso di Valon che è un professionista, vi ho già detto, incredibile che ha determinate caratteristiche che servono a noi in questo momento perché bisogna essere consapevoli che sei una zona che non è che piaccia e dalla quale bisogna cercare di tirarsi il più presto fuori da una situazione che comunque non è piacevole quindi anche qui ci sono delle priorità le priorità sono in funzione anche dei giocatori che stanno bene noi abbiamo visto che ad esempio senza Valon non difettiamo magari nella pressione coordinata con una certa vehemenza perché altri giocatori hanno altre caratteristiche però sono altrettanto convinto che dando fiducia a tutti e lavorando con continuità e del caso di Marco D'Alessandro che secondo me ha fatto davvero una gran partita ci può dare la possibilità di aumentare il numero di giocatori che possono dare una grossa mano e possono sentirsi utili alla causa Mister, buongiorno nell'ultimo turno, pur considerando il risultato finale l'Udinese è andata a segno nel primo quarto d'ora e non è una cosa che è successa spesso in questo campionato considerando il tipo di partita si è parlato prima dell'avversaria si gioca di nuovo a San Siro nello stadio dove i tifosi nerazzurri hanno vissuto l'eliminazione della Champions c'è magari stata un'idea di provare a improntare un inizio di partita anche abbastanza vigoroso per provare a mettere in difficoltà subito l'Inter e magari spostare anche l'umore del pubblico in negativo e farne diventare un fattore Noi siamo nella condizione di spostare l'umore del nostro e quello del pubblico in funzione delle strategie che scegliamo in base all'avversario che incontriamo e quindi c'è la voglia, come vi ho già detto di poter diventare molto capaci ad arrivare a dominare anche le gare non si può fare una cosa per la quale non ti sei ancora sufficientemente allenato perché vi ho spiegato prima che per le mie priorità e i numeri dimostrano quello quindi un netto miglioramento per quanto riguarda concretezza, organizzazione difensiva e occasioni concesse perché non ci dimentichiamo che l'Atalanta a parte fino al 2-1 Musso non aveva fatto una parata noi abbiamo concesso due tiri in porta e ne abbiamo fatti due di cui è vero tre per la verità di cui un gol molto bello un palo che poteva riaprire l'inerzia della partita e un'occasione che non siamo stati particolarmente abili a capire che potevamo sfruttarla meglio è chiaro che il nostro intento è quello di costruire sempre più occasioni ma senza perdere l'immagine di chi siamo in questo momento e dove siamo e quindi l'idea di poter creare dei problemi all'Inter c'è e c'è tutta dovremmo essere bravi ad avere sempre equilibrio in questa settimana abbiamo lavorato sulla gestione del gioco e dovremmo poter lavorare diciamo su un campo molto difficile senza perdere l'equilibrio senza pensare che dobbiamo risolvere la partita nel primo quarto d'ora piuttosto che negli ultimi dieci minuti una cosa è certa quando la partita ti sfugge di mano allora diventa difficile più recuperare quando una partita invece la tieni viva e c'è la condizione per poter in ogni caso e in ogni modo riprenderla è quello che cerchiamo in questo momento perché se no diventa difficile avere continuità Tutto Udinese Buongiorno mister ecco ovviamente lei parla per le partite in cui era in panchina però in questi anni si è visto spesso una squadra distratta a livello difensivo nelle sue prime due partite la squadra è stata compatta attenta e precisa a difendersi contro l'Atalanta si sono visti degli errori che abbiamo visto un po' troppo spesso come si spiegano questi carri di concentrazione continui? si può allenare la concentrazione di questi giocatori? Assolutamente sì che si può allenare la concentrazione ma la concentrazione è un concetto tanto semplice quanto difficile nel senso che per definirsi concentrato tu devi pensare e fare la stessa cosa è chiaro che se sei distratto dalla palla e non hai la responsabilità dei compiti che ti vengono affidati non sei concentrato ma la concentrazione è anche frutto di una situazione dinamica e non dinamica quindi la concentrazione che bisogna mettere ad esempio nelle palle native è diversa da quella che devi mettere nel calcio in movimento ma non sono d'accordo sul noi di concentrazione abbiamo difettato dopo il pallo di Fofanà contro l'Atalanta dove obiettivamente si è cercato di dare un messaggio di poter voler andare a riprendere la partita ma non avendo lavorato sui determinati modi altri modi di stare in campo c'era la possibilità che la squadra si disunisse invece in questo momento almeno fino al 2-1 io ho visto una squadra che ha difettato nella gestione della palla delle ripartenze sbagliando spesso volentieri il primo passaggio di uscita avendo magari troppa frenesia nel capire quando riattaccare immediatamente oppure salire con un fraseggio più accorto e su questo noi questa settimana ci siamo concentrati e questo mi aspetto di vedere nelle prossime settimane perché chiaramente è il lavoro che ti permette e la dedizione del lavoro che ti permette di avere un miglioramento per il resto io sono straconvinto che nel mio modo di allenare io rendo consapevoli i giocatori sia delle loro emozioni sia dei difetti sia delle qualità che hanno ed è anche questo un percorso di crescita io sono straconvinto che si arriverà ad essere molto concentrati molto pratici ed anche esteticamente utili ultima domanda per il messaggero Veneto vado sempre un po' a cercare qualche cosa magari qualche riferimento sulla formazione è possibile giusto insomma sai è possibile che magari vediamo un De Paul Pusseto domani e parti magari con l'asso lasagna in panchina oppure solamente un'idea un po' così strampalata i ragazzi si sono resi conto che nel nostro modo di allenare nessuno viene dimenticato ed è un valore che secondo me è un valore aggiunto per un gruppo sì sì e quindi durante la settimana loro provano cambiano compagni di reparti proviamo posizioni diverse tutti devono pensare che possono giocare senza avere quella certezza che ti fa perdere anche un po' di competizione quindi abbiamo provato diverse situazioni ma potrei spiegartele dopo la partita ma sai che a me non piace dare molti punti di riferimento grazie a tutti